Fai un salto a Varese anche col brutto tempo perché come vedete è sempre bellissimo, una corsa stupenda che unisce tre grandi classiche, la Camera di Commercio come sempre c'è e fai un salto a Varese o fai un tuffo anche nel nostro lago tra poco insomma con l'aiuto della regione.